Ha funzionato! Ha funzionato veramente! E chi l'avrebbe mai detto? Ciao a tutti, lui è lui E lei è Sofì e benvenuti in un nuovo daily vlog Un'avventura al giorno, un nuovo video per raccontarvi la nostra folle vita E oggi è davvero un grandissimo giorno, un giorno super speciale perché abbiamo raggiunto i 2.700.000 follower su YouTube In realtà abbiamo raggiunto questo traguardo da un po' di giorni, però ogni volta diciamo lui dobbiamo dirlo, lui dobbiamo dirlo e ce lo dimentichiamo sempre, quindi sì, oggi ce lo siamo ricordati e siamo qui per festeggiare insieme a voi! 2.700.000 follower Vi rendete conto di quante persone sono? Cioè questa roba qua è pazzesca! Wow! Stiamo facendo davvero dei record assurdi! Siamo ufficialmente la famiglia più grande e bella e forte di YouTube Lui contiene la tua adrenalina Ma soprattutto sapete cosa significa questo? Significa che piano piano stiamo arrivando al traguardo di 3.000.000 E noi per questo traguardo abbiamo in mente uno speciale davvero super fuori di testa, quindi mi raccomando se tu che stai guardando questo video non fai ancora parte di questo incredibile team devi assolutamente cliccare il tasto iscriviti e farlo esplodere pam 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 diventeremo la famiglia più forte e grande insieme di YouTube Aspetta, già lo siamo OHHHHHHHHH Quindi fa di iscrivere più persone possibili perché prima raggiungiamo i 3 milioni prima vedete lo speciale e anzi seguiteci pure su Instagram lì siamo pure molto attivi ci trovate come chiocciola me contro te chiocciola carciofì no sofi.scalia e luigi.calagna e oggi per festeggiare due cose super pazze prima backflip della videocamera wow ok primo fatto secondo oggi ho in mente di realizzare qualcosa di non pazzo non super pazzo di più qualcosa di folle di che si tratta? dimmi che non è un robot che mi fa scherzi no 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 tranquilla per un po' non riceverai più scherzi già ti sono bastati gli ultimi due c'è un ape c'è un ape aiuto aiuto ci persegui no sto scherzando lui davvero devi smetterla team trote non so se lo sapete ma noi per ora stiamo letteralmente scappando dai calabroni perché la nostra casa estiva la casa delle trote quella che avevamo preso dall'amico di Gigi che vive in America vi ricordate? è invasa dai calabroni sono venuti i vigili del fuoco abbiamo fatto di tutto ma loro sono ancora là non vogliono andarsene e allora se loro non se ne vanno chi se ne va? noi siamo qui finchè loro poi non si vanno a coricare allora poi noi ritorniamo in quella casa è un incubo oggi ho in mente di costruire un nuovo cannone l'anno scorso se vi ricordate bene abbiamo costruito il cannone sparaschiuma una mia invenzione un piccolo esperimento che devo dire è stato molto divertente quest'anno però ho pensato di realizzare un cannone spara qualcosa di ancora più figo ovvero il cannone spara carta igienica ingegneros illuminami a cosa serve qual è la sua funzionalità la funzionalità è quella che ti potrò riempire di carta igienica in pochi secondi ah quindi come al solito io sono sempre la vittima già bene vittima e assistente e anche topino da lavoratorio a tratti lui ma cosa sta succedendo a questo canale prima eri tu la vittima adesso i ruoli si stanno ribaltando non ci sono abituata ad essere vittima lo schiavetto sei tu no non sono più la sua figlia una volta cosa c'è di sbagliato in me cosa smettila tim trote voglio ritornare alla sofi che ero prima quando ero io a fare gli scherzi a lui ero io a prenderlo in giro ero io ad organizzare le macchine contro di lui per sparargli la carta igienica datemi qualche consiglio per riessere la crudele sofi la crudele ok va bene ok calma per realizzare il nostro cannone spara a carte igieniche abbiamo bisogno prima di tutto ovviamente di carte igienica carte igienica e carte igienica aiuta dei oggetti vari cosa sono e infine del nostro cannone spara aria mi fai paura ragazze avete presente quando voi vedete vestiti trucchi gioielli la vostra reazione è wow ecco per lui si ha la stessa reazione quando vede questo coso perchè ti piace così tanto è bellissimo è la potenza massima ricordi l'altro giorno quando l'ho provato per la prima volta è bellissimo ok rispetto i tuoi pensieri ma non li condivido ecchemi qui nella mia postazione di scienziati pazzi meccaniche ingegneros come sapete questa che stiamo per andare a fare è una creazione inventata e ipertorita dalla mia mente quindi potrebbe pure non riuscire niente ma è proprio questo il bello scusa lui quindi noi adesso stiamo andando a perdere del tempo per realizzare questo cannone che tu hai completamente pensato da solo non hai seguito nessun tutorial si esatto hai capito bene proprio nessun tutorial e tutte queste cose che hai comprato per esempio le hai pensate tu si ci pensavo questa notte capite a cosa pensa lui la notte c'è gente che ha grandi pensieri pensa alla fisica quantistica al mondo all'inquinamento mentre lui pensa a costruire cannone sparacarta igienica cos'è? vuoi metterla in bagno? è un portacarta igienica? non è un portacarta igienica dammi un attimo sto elaborando per chi lo volesse costruire pure a casa comprate un rullo o quello per tingere praticamente i muri di casa togliete questa parte qui di spugna e questo cilindretto è la parte che ci serve come facile sapere che lì dentro c'era questo cilindretto l'ho sognato ti ho detto a questo punto inseriamo la nostra carta igienica qui dentro mettiamola sicura e lo reincastruiamo qui dentro funziona a questo punto dobbiamo trovare il modo di attaccare questo qui nel cannone spara aria si si proprio così cacciofina anzi mi puoi dare una mano? tieni ma cosa? che schifo no c'è la carta igienica questo è perché non credi mai ai miei progetti io sono uno scienziato lavoro giorno e notte per migliorare le condizioni dell'uomo in terra è sputato che schifo quella era sapienza e conoscenza non era sputo se c'è una persona al mondo sapiente quella sono io che sono vecchio sagio così che stai pensando? cosa vuoi? dobbiamo attaccare questo cuvà ok vai no no aspetta non cadere un attimo un attimo guardate qui dentro e voilà lo spara a carta igienica turbo master 2000 è pronto guardate qui che figata è riuscito veramente allora lui mettiamola così l'hai montato ma non è detto che questo funzioni secondo me per esempio non funzionerà affatto no dai fede questo funzionerà e come? che ne dici di andarla a provare? ok basta collegare la corrente aspetta 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 lui ci penso io voglio provarlo io come? l'ho creato io lo so l'hai creato tu però sono io la giuria quella che decreterà se tu sei un vero ingegnere o spazzo oppure sei soltanto un cretin va bene a te l'onore di utilizzare lo spara a carta igienica turbo master 7 ok sto per accendere il nostro cannone vai 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 ahhh 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 ha funzionato ha funzionato veramente e chi l'avrebbe mai detto? lui questo sai cosa significa? cosa? che tu sei un vero ingegnero spazzo ahhh non ci posso credere davvero ho realizzato qualcosa per la prima volta che funziona cioè è pazzesco è incredibile guardate cosa ha fatto in pochi secondi ho fatto una riunione con gli altri vecchi saggi quali quando? quali saggi? e loro hanno decretato che è possibile cosa è possibile? tu puoi essere incoronato incoronato? ingegnero spazzo 2018 siiii il giorno più felice della mia vita ma tutto questo voglio provare io adesso il cannone spara aria super mega yeyeye luiii riprovarlo con la carta igienica scusa cambiamo il rotolino cannone pronto andiamolo a provare ci siamo tutto è pronto 3 2 1 è bellissimo è letteralmente una figata pazzesca potrei utilizzarlo per svegliarti la mattina no no grazie ok ma adesso tutto questo casino chi lo raccoglie? non lo so io stavo per andarmi a fare il bagno in piscina no no ma quale bagno in piscina? non mi sembra affatto il caso mi devi aiutare a sistemare tutto quel casino che c'è di là guardatela non mi ascolta non gliene frega niente ma che fai? adesso ti ignoro io come tu facevi ieri divertentissimo sai che c'è? io mi faccio i bagni anch'io e me ne porto per cos'è e cos'è e di là è tutto disordinato yes yeah yeah tuffo alla pizza aiuto ciao arrivo anch'io è la cosa più divertente del mondo sembrano delle piccole zattere lui non mi toccare con questi piedi non cadi ora ti faccio cadere in acqua no no ti faccio cadere in acqua non ti permette no 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 davidino è arrivato piccolo rai ma comunque il titolo dell'avventura di oggi si conclude qua iscrivetevi e vedrà a far parte anche voi del team trate anche oggi abbiamo fatto un nuovo esperimento un super pazzo una nuova creazione wow non vedo l'ora che sia quest'inverno per tornare al laboratorio a fare cose sempre più pazze yes cliccate il video di questa per conferire che ci vediamo ieri e noi ci vediamo domani con l'unissima avventura ciao hu 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 u che committing sta facendo chi sta facendo ho beh mi chiedo non mi chiedo ma 스� count everybody are you guys get the ball situación la x Guardate che pesa la mummia L'amana ya